Musica lei ha suonato lei ha suonato lei non testa lei ha suonato non puoi entrare in una comunità privata senza suonare a meno che non hanno mandato le perquisizioni non dobbiamo fare nessuna perquisizione allora prego, esca e suoni suoni e faccia il controllo torno indietro, suoni e faccia il controllo quando sei pronti, sei pronti con l'alena? no, oggi sono in un intervento c'è l'alistandro sopra si, grazie va bene, va bene siamo adesso in un intervento allora io le faccio fare quello che vuole ma lei non può entrare in una propria privata se non ha mandato le perquisizioni guardi, vi faccio un esempio le chiedo gentilmente, lo vedete quello che ce l'ho lì quello è la propria privata lei ha mandato le perquisizioni, il secondo può entrare senza suonare non devo fare nessuna perquisizione non devo fare nessuna perquisizione non devo fare nessuna perquisizione non devo fare nessuna perquisizioni non devo fare nessuna perquisizioni non devo fare nessuna perquisizioni non funziona così guarda, riprendi il codice penale guarda, riprendi il codice penale bene se lei vuole fare un controllo ci può fare e dice buongiorno signor corona, salvo polizia, facciamo un controllo prego, entrate fate un controllo, non potete entrare in casa è la legge vi chiedo gentilmente, visto che non avete mandato le perquisizioni no, perché questa è una propria privata è di uscire dalla porta perché è una legge vi chiedo di uscire dalla porta uscite dalla porta perché non avete mandato le perquisizioni se non vi rinuncio uno, due, tre e quattro no, non vi calmo grazie